e non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi mamma mia anche oggi un bel po di novità davvero super interessanti per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite insomma ragazzi ieri è arrivata la skin rhino quella di cui vi parlavo in tante live che hanno chiamato beast mode ed è molto molto interessante con un sacco di variabili ma nel video di oggi ragazzi parleremo di un evento che succederà proprio oggi alle ore 17 chiamato evento apple ne sapremo di più durante il video non mancheranno ovviamente le elinews oramai lo sapete appuntamento consueto per tracciare un pochettino quello che sta facendo l'elicottero e abbiamo finalmente anche un po di informazioni su alcuni bug che fixeranno nella patch 8.2 che sarà ragazzi una patch abbastanza importante anche per quanto riguarda l'inserimento di nuove skin e di nuove cose però ragazzi permettetevi intanto di ringraziarvi per utilizzare il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per il vostro supporto mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e sulle mie live ma prima comunque la la domandina raga ve la devo fare la doma ed è una bella domanda raga lo sapete i vostri commenti qua sotto ve la faccio qual è il tuo piccone preferito secca così ragazzi qual è il piccone che ti piace di più in assoluto magari alcuni lo sanno il mio ragazzi è l'animale da festa il piccone slurp è veramente OP mi piace tantissimo e tuttora rimane il mio piccone preferito ditemi il vostro qua sotto nei commenti ma quindi ballonciance e cianciolevande andiamo subito a parlare due secondi appunto della nuova skin rhino come vedete ragazzi l'unica skin ad avere ben quattro stili personalizzati completamente diversi dall'originale si rivela una skin robotica meccanica ne avevamo già parlato potrebbero centrare i robot nella season numero 9 tra l'altro la skin ha come base il rinoceronte ma le variabili sono il leone il giaguaro e il culo allegro perché non mi ricordo la terza quale sia ragazzi con tanto di backpack e quattro varianti piccone e quattro varianti e deltaplano e quattro varianti insomma ragazzi una skin assolutamente molto interessante che non è di certo un acquisto sbagliato se pensate di portarvela a casa ma andiamo avanti e parliamo ragazzi di quello che ha twittato ninja qualche ora fa e non solo sulla propria pagina di twitter insomma ragazzi lui scrive tomorrow march 25 quindi ha twittato il 24 marzo e parla di oggi 12 pm noon eastern che tradotto per noi in italia sono le ore 17 e c'è una foto ragazzi quello lì sembra il logo della apple con il morso ma non è una mela ragazzi è una pera lo fa ugualmente anche dottor lupo quindi ragazzi stiamo parlando dei top del top per quanto riguarda il panorama di fortnite mondiale stesso identico tweet a 12 pm noon eastern che sono le 17 e l'immagine ragazzi potrebbe riferirsi anche all'uscita questa è un'immagine che mi è stata fatta pervenire mi sembra un po fake questa immagine qua ma la cosa importante e interessante è appunto che cavolo significa se me lo twitta ninja e se me lo twitta dottor lupo vuol dire che stiamo parlando di qualcosa che succederà relativo a fortnite non si sa ancora bene quale sia l'oggetto del tweet però ragazzi alle ore 17 noi saremo in live quindi cercheremo in tempo reale di capire che cosa sta o che cosa dovrà succedere ovviamente ragazzi non perdete di seguire la diretta appunto di quell'ora delle 17 sul mio canale per cercare di capire un pochettino se magari succede qualcosa in game o semplicemente è un side event ma andiamo avanti ragazzi ed eccole quaffaffa faffaffa faffa faffa fa faye e il news news ragazzi abbiamo una mappa una mappa meravigliosa che ci fa vedere le prime sei posizioni dell'elicottero insomma lo ripetiamo per un'altra volta è partito l'elicottero là in alto vicino al porto si è spostato sulla parte più esterna della mappa vicino a rifugio ha raggiunto la pista che c'è a palmetto paradisiaco spostandosi poi proprio dietro palmetto paradisiaco raggiungendo un'altra location vicino ad approdo e l'avevamo visto l'ultima volta dietro borgo allegro beh ragazzi l'elicottero da poche ore si è spostato di nuovo ed eccolo qua si trova dietro rapide rischiose ragazzi la rampe ghiacciate rapide rischiose rampe ghiacciate si è spostato ancora sta quasi ultimando il giro della mappa io credo che potrebbe succedere qualche cosa non appena sarà secondo me tornato al punto di partenza sta facendo un perimetro ragazzi non si sa ancora bene quale sia il suo obiettivo ma ovviamente io vi sto dicendo quello che scopro anche io ma andiamo avanti e parliamo eccolo qua di un altro argomento super interessante che sono i primi bug che verranno fixati con la patch 8.20 non sappiamo ancora quando è programmata questa patch ma ne leggiamo solamente alcuni ad esempio loro sistemeranno ad esempio il problema che alcuni player riscontrano e anche io l'ho riscontrato effettivamente dove quando ci spariamo da un cannone la traiettoria del nostro personaggio non è come quella verso cui abbiamo mirato ed è un problema che sinceramente ho riscontrato anche io verrà fixato sistemeranno anche è un problema con le clinger che effettivamente danneggiano i giocatori dalla parte opposta del muro ed è una cosa che non ha senso che succeda ed è successo anche queste insomma ti tirano una clinger tu sei protetto subisci danno ugualmente nonostante hai un muro davanti che ti protegge ovviamente ci sono tante altre piccolezze più o meno importanti che verranno fixate se volete datevi voi una bella lettura a tutte queste che ci sono e non vediamo l'ora di scoprirne di più sulla patch 8.20 ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un altro evento che potrebbe tranquillamente accadere in game questa è un'immagine che arriva proprio direttamente dal nostro fortnite e se non ricordo male dovremmo essere qua nel porto dei pirati c'è un quadro ragazzi c'è un quadro nel porto che mostra il vulcano che conosciamo benissimo in eruzione ragazzi quindi le ipotesi le teorie che il vulcano erutterà potrebbero essere confermate molto semplicemente da questo quadro e se il vulcano erutterà così come è mostrato qui la lava finirà fino al mare ragazzi si vede sia dietro che davanti la lava che raggiunge l'acqua e ovviamente non sapremo quello che succederà insomma ragazzi chiudo dicendo che questa season 8 sta davvero dando un bel po' di novità l'unica cosa che secondo me ancora manca e non ho ancora ben capito come mai è un evento nel senso non è ancora successo niente in game avete presente kevin nella season 6 cioè il cubo e tutto l'evento del cubo le farfalle ad esempio e tante altre cose che sono successe anche nelle season precedenti qua non si sono ancora verificate siamo ancora in una fase statica e se ci pensiamo bene qua questo giovedì arriviamo a metà della season staremo ovviamente a vedere ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato queste news vi mando un abbraccio forte vi ricordo codice creator xuderone noi ci vediamo in live alle 13 ciao 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 ciao